Con 115 relatori, 15 dimostrazioni di volo ai vertici europei dell'aerospazio, parte la seconda edizione del MAM, evento internazionale dal 20 al 22 marzo all'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie. Rappresentanti istituzionali, esperti, start-up, docenti universitari e ricercatori, per confrontarsi sull'evoluzione del settore aerospaziale. Qualcuno pensava che quando annunciammo il progetto Spazio Porto stavamo scherzando, si cercava di evadere da una idea che non si potesse cambiare il destino di questo territorio, invece stiamo cercando di farlo con un progetto concreto. Oggi qui abbiamo, alla seconda edizione, una partecipazione straordinaria. L'evoluzione delle operazioni aeree e la mobilità aerea innovativa, politiche, tecnologie e opportunità, valorizzata anche l'attività di testbed con i droni dell'aeroporto di Grottaglie. Cresce la fiera, cresce come attenzione internazionale. Quando vedi che ci sono oltre 1000 iscritti, ci sono 70 stand, cresce come padiglione, perché si cresce il mercato e la Puglia diventa protagonista, significa che stiamo andando nella direzione giusta, anticipando un po' qual è il mercato. Buona è la prima dunque per grandi piccole e medie aziende del settore aerospaziale. Il MAM quindi è una delle azioni che noi mettiamo in campo per consolidare una capacità di sistema che è fatta da tante cose. Ed è fatta anche da una promozione dei luoghi, da una valorizzazione delle infrastrutture, dalla attrazione anche di interessi, non solo industriali ma anche dei regolatori, cioè di quelli che definiscono le regole perché le cose accadano, perché si possa volare nello spazio aereo.